Lo scrittore e giornalista Maglio Collino ha tenuto una conferenza sul tema Non tutti gli studenti sono Gugliardi, presso la Biblioteca della Regione, nell'ambito delle iniziative per la mostra Studenti del Piemonte, sei secoli di Università Torino. Il ciclo di conferenze prosegue a febbraio con gli appuntamenti dei mercoledì 5, 12 e 19. Tra quello che significa essere Gugliardi c'è anche quello di avere uno spirito aperto, libero, autoironico, incline al divertimento, elastico, tollerante. Mantenere uno spirito gogliardico in una città come Torino, ma anche al di là dello spirito che c'è, proprio mantenere l'organizzazione gogliardica è proprio difficile per la dispersività della metropoli. Non a caso le gogliardie più forti in Italia sono tutte in città paramedioevali, come Bologna, come Padova, come Perugia, Urbino.